Oggi la nostra consulente immobiliare Clara Gallo ha ben acquisito un Cascinale da ristrutturare. Siamo Chiuduno, diversi dalla vista collinare tra i filari ed i vigneti circostanti. Il Cascinale possiede del terreno di propietà pianeggiante in tutto e dall'abitazione si raggiunge a piedi il centro del paese, godendo del verde delle colline che dipingono il paesaggio. Se è alla ricerca di una soluzione da cui poter ricavare ampi spazi abitativi, tra i fili ed ammattità, forse questo è l'immobile che fa per te. Chiamaci subito e fissa un appuntamento per venire a visionarlo. Grazie a tutti!